Chi è il facilitatore? Ce ne sono tanti, anche al sud purtroppo, ed è una figura connaturata ad una funzione chiave di questo paese, che è la corruzione, fondamentalmente, ed è uno degli affari più ricchi e lucrosi del nostro sistema, un sistema che è congegnato per reggersi proprio su questo meccanismo della corruzione. I facilitatori sono tutti quelli che riescono a mettere in contatto la domanda con l'offerta, è una domanda particolare, è un'offerta molto particolare. La storia è piena di personaggi di questo tipo e non è un caso che poi, nella storia che racconto, questo sia un giornalista, perché i giornalisti hanno un mestiere molto particolare in Italia, perlomeno come è stato inteso da alcuni della nostra categoria. Poi si sono fatti sedurre dal lato oscuro della forza e sono passati a fare un lavoro che sfrutta le relazioni che dovrebbero essere utilizzate per motivi professionali per fare denaro, per far muovere il denaro. Questo è il facilitatore.